Un caso nell'aretino del virus usuto si tratta di un'infezione aviaria di origine africana estremamente rara negli esseri umani che prende il nome da un fiume dello Switzerland in Africa meridionale e viene trasmesso all'uomo esclusivamente tramite la puntura di zanzara Culex. A darne notizia il servizio di sanità pubblica veterinaria dell'azienda ASL Toscana Sud-Est di Arezzo. Lo scorso 25 agosto l'Istituto Zooprofilattico di Roma ha riscontrato la positività al virus su alcuni esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti presso l'area di tiro a segno di Talzano nel comune di Arezzo. Come la West Nile a causare questa infezione è un flavivirus patogeno per gli uccelli. I due virus sono differenti, fanno sapere le autorità sanitarie per la frequenza con cui si registrano casi di mortalità negli uccelli e per il minore impatto sulla sanità pubblica del virus usuto rispetto a quello della West Nile fever. Il comune di Arezzo è stato informato e si stanno valutando eventuali azioni a tutela della sanità pubblica.